Liturgia. San Giovanni Battista. Natività. 24 giugno. Solennità. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Ha pronunciato il mio nome. Un angelo del Signore parlò allora a Zaccaria nel Tempio e gli disse, tu lo chiamerai Giovanni. Dio conosce il nostro nome. Dio ci dà un nome. Un nome significativo. Tutto è grazia. Così Isaia doveva ricondurre a lui al Signore Giacobbe e a lui riunire Israele. E doveva essere lui segno di luce per tutte le nazioni. Luce delle nazioni è Gesù. La Chiesa prende luce dal Signore e la ritrasmette in ogni parte della terra. Dio è libero di donare. Dio è libero di eleggere. Ecco perché la Chiesa oggi ci fa dire con il Salmo 138 Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Certo di San Giovanni il Battista e suo bambino. Oggi dobbiamo godere della nascita di un bambino. San Paolo ricordando San Giovanni il Battista e predicando nella sua prima missione in Antiochia di Pisidia l'attuale oggi Turchia ricorda i padri ricorda Davide figlio di Iesse proprio per giungere a parlare di San Giovanni il Battista e quindi di Gesù. A noi è stata mandata questa parola di salvezza la parola di salvezza del Padre la parola eterna è Gesù. Dio è libero di scegliere Dio è libero di donare un grandissimo dono ha fatto a una creatura a una fanciulla Maria di Nazareth la voluta immacolata per il suo figlio è un dono una grazia unica Dio è libero di donare di scegliere di rendere immacolati tutti noi al suo cospetto in Gesù certo Maria stessa attinge dal suo figlio divino che è nel suo grembo così sono stati eletti sin dal seno materno Isaia Giovanni il Battista San Paolo ricorderà dopo la sua conversione che anche lui è stato eletto sin dal seno materno eletti furono Abramo Isacco Giacobbe Mosè Davide i profeti gli apostoli ecco cosa ci dice allora il piccolo Giovanni che noi poi chiamiamo il Battista ma è Giovannino Giovanni primo che porta gioia ha gioito nel grembo della sua mamma Elisabetta al sentire presente nel grembo di Maria giunta sulla soglia di quella casa ha sentito presente il figlio di Dio ed è stato santificato nel grembo di sua madre per cui oggi noi celebriamo la nascita anche fisica di un bambino dal grembo di mamma inoltre il piccolo Giovanni Giovannino ci ricorda che ogni bambino è una parola di Dio Giovanni vuol dire grazia ognuno di noi è una grazia ogni bambino è un continuo miracolo di Dio vita sul mondo in alcuni il Signore concentra grazia su grazia ma non solo per lui o per lei quanti si sono chiamati Giovanni e Giovanna bello anche il nome di Giovanna come Giovanna d'Arco ma santi perché devono trasmettere anche qualcosa di particolare agli altri in ogni tempo in ogni epoca in ogni secolo ci sono grandissimi santi duni di Dio pensiamo anche al nostro tempo i santi papi che abbiamo avuto così vicini santi e sante come Teresina Faustina Massimiliano Teresa di Calcutta Giovanni Paolo II e via ancora tutti quelli che tu puoi ricordare anche quelli di casa tua santamente vissuti dice un grande santo San Luigi Maria di Monfort che negli ultimi tempi Maria si riserverà di formare lei direttamente grandissimi santi perché lei è santissima lei è madre di santità e vuole preparare il ritorno glorioso del suo figlio divino tocca la madre preparare la grande festa del ritorno del figlio attraverso santi e sante Maria guarda anche noi distribuissi dal tuo cuore immacolato questo fiume di santità che attinge dal tuo figlio divino che porti sempre con te con te di ritorno di ritorno a di ritorno di ritorno di ritorno che di ritorno